Oltre 3 milioni di euro disponibili dal 2011 per impianti sportivi e ad uso sociale. Fondi per il post-sisma aquilano, che denuncia il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, ancora non vengono spesi. Una questione anche personale per De Matteis, visto che la legge regionale porta la sua firma ai tempi di quando era vicepresidente vicario del Consiglio regionale. La legge destinava all'Aquila complessivamente 4,4 milioni di euro. Ne sono stati utilizzati solo 1,4 milioni per il completamento dello stadio Acquasanta, inaugurato pochi giorni fa. Fermi invece 400 mila euro destinati ad una foresteria a servizio degli impianti sportivi del Centico Lella, 564 mila euro per lavori di ripristino del palasporte di Viale Ovidio, 1,7 milioni di euro per due strutture polifunzionali nei progetti case di Paganica e di Bazzano, 200 mila euro per case famiglia e attività di promozione sportiva. Una vergogna, tuona De Matteis, che minaccia di andare alla Corte dei Conti e rivela la dirigente comunale Enrica De Paolis ha proposto di utilizzare questi fondi per altri progetti subito cantierabili, come ad esempio la realizzazione del palasporte giapponese del Centico Lella, che procede al rilento per mancanza di fondi. Ma la giunta comunale, denuncia De Matteis, non ha dato ancora risposte. Si tratta di risorse finanziarie stanziate dalla Regione su una legge presentata dal sottoscritto, da me nel 2011, stanziava ben 4 milioni e 4 di risorse finanziarie destinate al Comune dell'Aquila per una serie di interventi. Di questi interventi programmati l'unico ad oggi realizzato è il completamento dello stadio di Acqua Santa, che questa amministrazione ha potuto completare grazie appunto a quelle risorse finanziarie per 1 milione e 700 mila euro. Naturalmente non lo hanno mai ricordato perché ovviamente non gli faceva comodo. Mi aspetto anche che ci sia una chiara voce da parte del Comune di Cialente, che naturalmente sa benissimo che sono queste risorse finanziarie bloccate, e mi adopererò in due sedi, una alla Corte dei Conti per verificare se esiste un danno prodotto dal punto di vista finanziario dell'erario, e in sede regionale perché non è possibile che una città che riceve milioni di euro per interventi di questa portata non abbia un'amministrazione che abbia a cuore la necessità di utilizzarli nel più breve tempo possibile su cose utili e realizzabili.